Siamo entrati nella vita della gente testimoniando un'evoluzione. Io creo che il cinema sia una specie di diario sociale, no? E le canzoni d'autore in particolare sono state, e sono forse ancora, un diario dell'inconscio dei singoli, proprio delle persone, no? Ognuno ha investito nelle canzoni che gli servivano, facendo le sue e prendendole da me.